Benvenuti o bentrovati all'interno di questo canale video. Oggi, noi di 14, vi propongo, e giustamente dopo aver aspettato 4 giorni, la soluzione del libro quiz di metà settimana scorsa, il libro numero 71. Eccovi la recensione e poi alla fine il risultato, cioè la soluzione, cioè il titolo del libro. La musicalità del linguaggio è una delle caratteristiche di questo libro. È scritto in una lingua che sembra, leggendola, meglio dell'italiano. Ricca di particolarità e con una leggera difficoltà, ma leggerissima, nella comprensione, fa da base alla storia di un uomo che sventa un ricatto e scopre un traffico di droga nella sua terra. Adesso si potrebbe dire che tipo di protagonista è il protagonista di questo romanzo, che è più un giallo di un romanzo, ma sicuramente tu che stai leggendo hai già capito di chi si sta parlando. Il libro quiz di metà settimana, il titolo del libro numero 71, è Il gioco degli specchi di Andrea Camilleri. Grazie per essere ancora qua, grazie di esserci, grazie di esistere, e ci risentiamo per il libro quiz della settimana, di questa settimana. A più tardi. Ciao ciao!